la signora fernanda giustamente è indignata per quello che è stato buttato nel cesto che hanno ragione la roba la prende dalla carità prende la roba chi la dà da maniera la butta ma lì tra l'erba ma ci vuole giudici però cosa c'era la dentro venga veda andiamo a vedere che faccia atti che se i vedria chissà qui faria guarda questo è il bidone degli sfalci delle potature quindi dell'erba guardate guardate qua quanta roba è stata buttata via qui c'è c'è scritto aiuto prodotto non commerciale questo è il minestrone qui c'è la pasta vedete ogni genere di pasta vediamo la scadenza allora la scadenza 21 ottobre 2016 qua dentro c'è il riso ecco la signora ha aperto la scatola e scade nel novembre del 2017 e vedete c'è veramente tanta roba tanta tanta adesso questo lo rimettiamo a posto io non so se qualcuno può venire chi ha chiamato la polizia signora qui ci è tutta roba che che comunque molto ecco qui ci sono addirittura le lenticchie lessate vedete spaghetti c'è di tutto la sposteremo ma volevo mandare gli ispettori ambientali prima verificare questa cosa e poi vediamo di recuperare sì perché comunque tutta confezionata per cui secondo me si potrebbe tranquillamente recuperare tenendo conto che non c'è solo c'è un po d'erba insomma noi recupereremo solo questa roba qui a mano poi chiaramente che assoluto lo svuotiamo come normalmente facciamo una volta recuperato quello che deve recuperare anzi probabilmente lo faremo in giornata chiaramente queste immagini devono scandalizzarci devono indignarci però non dobbiamo cadere nella trappola del pensiero che populista che vuole che tutte le persone buttino via gli aiuti che ricevono non è così quello che abbiamo visto è semplicemente il gesto sconsiderato di una persona una persona che come andata a prendere alla caritas questi prodotti poteva tranquillamente riportarli se non ne aveva più bisogno non lo ha fatto è un problema di coscienza è un problema suo chiaramente ma non dobbiamo dimenticare che invece la caritas ogni giorno aiuta tantissime persone e lo fa 365 giorni all'anno e ed è alla caritas che non dobbiamo far mancare il nostro aiuto e il nostro sostegno grazie 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 grazie